Villa Santa Maria conferma il primato di comune più riciclone d'Abruzzo, supera il 93% di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel 2022 conferma il primato anche la provincia di Chieti che ha superato il 74% di raccolta differenziata rispetto alle altre tre province abruzzese. Il riconoscimento di legambiente consegnato in occasione dell'Ecoforum che si è svolto a Lanciano. Presenti insieme ai presidenti nazionale e regionale dell'Associazione Ambientalista Stefano Ciafani e Giuseppe Di Marco, anche l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, Massimo Ranieri, presidente di Ecolan. Sentiamo il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore. Siamo insomma contenti e anche soddisfatti del lavoro fatto anche perché abbiamo iniziato nel 2015 e ricordo sempre che la raccolta differenziata era al 9%, quindi per noi vi è un'ampia soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, ma soprattutto un ringraziamento va ai cittadini che hanno collaborato e collaborano ogni giorno con noi, perché poi se un servizio funziona non è solo per caratteristiche dove c'è un impegno massimo dei dipendenti Ecolan, ma c'è anche un contributo da parte dei cittadini che con il loro stile di vita aiutano noi a fare percentuali che arrivano oltre il 90%. Il rapporto annuale dei comuni ricicloni abruzzesi fotografa lo stato in essere della raccolta differenziata nella nostra regione, premia i comuni virtuosi che hanno saputo organizzare la gestione dei rifiuti in maniera efficiente, permettendo il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, ha evidenziato il presidente di Lega Ambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Per entrare nella speciale classifica di rifiuti free, non basta rispettare gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata fissata al 65%, ma occorre mantenere la produzione dei rifiuti non recuperabili sotto i 75 kg anno per abitante. E bisogna puntare alla riduzione del rifiuto, a sistemi innovativi di gestione, alla realizzazione degli impianti dell'economia circolare e alla capillare informazione e partecipazione attiva dei cittadini. Questa edizione mette in evidenza un leggero scivolamento della media regionale rispetto a quella nazionale, visto che i comuni rifiuti free sono scesi a 91 rispetto ai 102 del 2021, mentre sono 239 i comuni ricicloni più 6 e costituiscono il 78% del totale e ci sono 66 comuni che non raggiungono i limiti di legge. Il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. Non tutti i comuni riescono a tenere il passo. Quali potrebbero essere i consigli preziosi per i cittadini che sappiamo che contribuiscono a raggiungere questi risultati? Questo è un premio che noi diamo ai comuni, ai sindaci, agli assessori, ma lo diamo anche in qualche modo simbolicamente alle comunità che contribuiscono, perché c'è chi separa in casa e chi raccoglie i rifiuti in maniera differenziata. La sfida si vince se entrambi lavorano in questa direzione. I cittadini che vivono nei comuni dove la raccolta di differenziata non si fa così bene devono convincere i loro sindaci a fare altrettanto e quei cittadini che vivono nei comuni dove si fa una raccolta di differenziata molto alta ma non si paga con la tariffazione puntuale, quella che premia le ottenze più virtuose, devono convincere i loro comuni ad attivare la tariffazione puntuale, perché è un principio di equità ambientale, è un principio di equità sociale, è un principio di equità. I più bravi devono pagare di meno, i meno bravi devono pagare di più.